Eleonore Ferruzzi, con il suo carattere schietto e diretto, rompe il silenzio e svela tutti retroscena dietro le quinte del grande fratello VIP. Benvenuti su Reality Italiano, la tua finestra sul mondo delle notizie e del gossip più intrigante. Eleonore Ferruzzi non ha peli sulla lingua quando affronta le dichiarazioni di Alfonso Signorini su Verissimo. Ha risposto con una sincerità disarmante, sono stati loro a scegliere un cast con il quale sono andati avanti otto mesi. Sì, ci sono stati gesti spregevoli e brutture ma abbiamo prodotto ottimi ascolti, a differenza del cast dell'attuale GF che ha avuto un crollo negli ascolti già dalla seconda puntata. Hanno spinto loro determinate azioni. Incolpato persone e coperto altre. Ci sono persone che hanno sbagliato, tipo me, e sono uscite per gesti che potevano essere non presi in considerazione. Altri gesti, anche allucinanti, sono stati coperti. Perché gli interessava che quei concorrenti restassero dentro. La maleducazione, le parolacce e tutto quello di cui le parlavo prima. Cose che gli spettatori vogliono vedere. Se ne lamentano ma vogliono quello, se volessero un programma culturale guarderebbero Quark. Il GF è per un pubblico medio-basso. Anzi, no. Basso, neanche medio. Con gli altri lo hanno fatto sicuramente, erano più ragazzini con la fame di successo e di arrivare. Cosa pensi delle parole di Ele Noir sulle scelte della produzione? Ma soprattutto il pubblico è veramente così qualitativamente basso? Ma le rivelazioni di Ele Noir non si fermano qui. Continua dicendo, se qualcuno ti indirizza verso qualcosa, tu lo fai. È indubbiamente così. Non ne ho le prove ma questo gioco l'ho fatto. Non intendo dire che gli autori hanno spinto i concorrenti a fare determinate cose. Ma che hanno spinto certe situazioni rispetto ad altre. Hanno spinto storie che non c'erano. Metti un like al video ed iscriviti al canale per rimanere aggiornato sul mondo dei reality. E cosa pensa di Alfonso Signorini? Ele Noir svela. Sento Alfonso ogni tanto. È un amico e gli sono riconoscente. Non l'ho sentito dopo l'intervista Verissimo ma non ce l'ho con lui. Ognuno ha un capo a cui rendere conto. Evidentemente deve dire cose che gli vengono imposte. Non ho rancore, so perfettamente come funziona. Chiaramente, non mi trova d'accordo con tutto il fango che ci hanno buttato addosso. Loro hanno scelto il cast e loro ne hanno la responsabilità. Inutile dire adesso che era sbagliato dopo otto mesi in cui ci hanno mangiato tutti. E ora, il bilancio amaro. Ele Noir racconta, un disastro a livello lavorativo. Anche dopo, i lavori si sono bloccati. A livello mediatico sono stata massacrata e da parte loro non ho ricevuto alcuna tutela. È stato allucinante. Ancora oggi continuo a perdere lavori. Mi sono trovata in seria difficoltà dopo il programma. Ci sono marchi che non vogliono più associare la mia immagine al loro prodotto. Ci troviamo di fronte a una testimonianza scioccante da parte di Ele Noir Ferruzzi, che ha vissuto le conseguenze di essere parte del cast del GF VIP. Questa intervista svela il lato oscuro dietro la produzione di uno dei reality show più seguiti in Italia. Rimani con noi per tutte le ultime notizie e approfondimenti su questa storia.